Anzitutto devo dire che il primo a essere emozionato ero io, sono giudice costituzionale da un paio di mesi soltanto e questo incontro mi preoccupava non poco. Poi in realtà ho trovato degli studenti estremamente preparati. In questo liceo di Trieste ho ascoltato un progetto bellissimo che gli studenti stanno portando avanti nel quadro dell'Artenanza Scuola Lavoro in cui insegnano la lingua italiana ai richiedenti asilo. Mi sono state fatte un sacco di domande, alcune anche imbarazzanti, difficili, ma soprattutto ho trovato in questi studenti una grande voglia di capire, una grande voglia di andare al di là dei luoghi comuni, delle cose che vengono dette e urlate nella comunicazione mediatica e una grande volontà invece di comprendere la complessità dei problemi della realtà.